gentili consultori sono contento di vedervi qui riuniti anche questa volta sempre più numerosi come sapete a marzo dell'anno scorso è stata pubblicata la 33esima edizione dell'annuario della nobiltà italiana che inizialmente era prevista in un volume di 2000 pagine nel consueto grande formato ed è cresciuta invece in meno di due anni sino a raggiungere i due volumi per circa 6.300 pagine e tavole a colori tutto ciò senza aumentare di un centesimo il costo per i sottoscrittori senza richiedere contributi economici per l'inserimento di dati o notizie senza vincolare l'acquisto dei volumi per gli aggiornamenti trascritti pubblicati e trattandosi di opera scientifica senza inserire nei volumi pagine pubblicitarie o simili rinunciando volutamente così ad un abbondante fonte di denaro volendo mantenere la pubblicazione assolutamente di alto livello indipendente la crescita di questa pubblicazione è stata resa possibile grazie ai contributi delle ricerche di voi che siete membri del comitato scientifico dell'annuario e di altri che oggi sono assenti alle campagne di ricerca promosse a spese dello scrivente e alla volontà di mantenere l'assoluta gratuità degli inserimenti nell'annuario così da poter permettere il completamento dei dati anagrafici anche delle famiglie estinte e nel contempo integrare e correggere i dati genealogici anche delle generazioni più antiche conservandone i dati a futura memoria dei discendenti e dei ricercatori che verranno peraltro la nuova edizione dell'annuario della nobiltà alla quale si sta già lavorando lacrimente apparirà alla fine del 2023 abbassando così di circa due anni la periodicità della pubblicazione la diffusione dell'annuario della nobiltà italiana ha raggiunto circa 120 stati nel mondo il successo riscosso da questa pubblicazione altresì favorito la felice conclusione dei progetti editoriali nati dallo stipite dell'annuario ciò si è concretizzato con l'anvio delle pubblicazioni periodiche sorelle per i seguenti stati del mondo il principato dell'ichestein principato di monaco repubblica di san marino granducato dell'ussemburgo stato della città del vaticano e altri al di fuori dell'europa per questi stati sovrani le campagne di aggiornamento per le famiglie nobili e notabili censite inizieranno tra gennaio e febbraio 2023 ben tre stati retti da monarchie europee sono stati quindi destinatari di queste iniziative editoriali periodiche atta trascrivere la nobiltà creata da quei monarchi o le famiglie aristocratiche tradizionalmente residenti in quegli stati ed evidenziare come le dinastie regnanti in tali stati adottino oggi la legge principesca ossia la legge dinastica della casa vale a dire il principato dell'ichestein lussemburgo e monaco che è una legge ben separate dalle leggi di successione alla corona ossia dalle leggi che regolano la successione al trono su quegli stessi stati dominati da quelle case sovrane non è un caso che queste tre case abbiano tutte approvato emendamenti e nuove leggi dinastiche leggi della casa nel corso degli ultimi 25 anni fra loro diverse e di diversa portata nel 1993 fu la volta del principato dell'ichestein in lussemburgo nel 2012 e monaco nel 2015 per gli stati prescelti in questa fase per la creazione di nuovi repertori genealogici ossia per il principato dell'ichestein il principato di monaco la repubblica di san marino il granducato dell'ussemburgo e lo stato della città del vaticano questi repertori genealogici ed araldici rappresentano le uniche iniziative editoriali periodiche di raccolta catalogazione aggiornamento in ambito araldico genealogico per il principato dell'ichestein nonché per il principato di monaco si tratterà della prima volta al mondo nella quale verranno descritti e pubblicati i titoli nobiliari concessi da sovrani di questi stati a ciò si aggiungeranno come di consueto le genealogie dettagliate dei discendenti dei primi nobilitati e dei loro stemmi familiari se concessi adottati o comunque già utilizzati in precedenza relativamente alla repubblica di san marino si tratta del primo repertorio genealogico nobiliare dedicato con la descrizione dei dettagli genealogici e biografici dei componenti delle varie famiglie in lingua italiana per il granducato dell'ussemburgo non sono mai esistiti sino ad oggi repertori periodici pur essendo note molte delle famiglie nobili residenti sui titoli concessi dai sommi pontefici dopo la presa di roma 1870 se su eccettuano le schede genealogico araldiche pubblicate nella parte terza pontificia dell'annuario della nobiltà italiana seconda serie dal 2000 mai esistessero repertori genealogici periodici ad essi dedicati corredati da una puntuale descrizione araldica e dei titoli delle famiglie descritte altra importante iniziativa editoriale forse la più importante tra quelle descritte e quella del nuovo periodico sui titolati del regno unito che rappresenta quanto di più completo e vasto mai realizzato sul tema anche prendendo in considerazione le iniziative editoriali che affondano le loro radici nel diciassettesimo secolo essa è stata originata non per mio merito ma per la tenacia di un consultore dell'annuario della nobiltà italiana mario gregorio che oggi verrà decorato benché sia assente della medaglia d'oro con menzione di benemerenza a dimostrazione che l'esempio buone idee costanza possono fare moltissimo tutte queste iniziative editoriali verranno illustrate con apposite schede pubblicate sui social e nell'annuario della nobiltà italiana nel corso dei prossimi mesi essi rappresentano un passaggio fondamentale nella vita di questa casa editrice dell'annuario che ha dimostrato come anche in momenti drammatici come quello che viviamo ingegno forza di volontà e capacità possono portare a grandi risultati altro progetto molto importante è quello relativo al censimento genealogico ed araldico delle case reali nel mondo sia quelle sovrane sia quelle deposte dal 1800 ai nostri giorni è il primo tentativo di questo tipo a livello planetario che viene portato avanti in maniera sistematica la parte più interessante è proprio il primo volume che è dedicato allo studio delle leggi dinastiche ed è un'introduzione al diritto dinastico universale è stato fatto una ricerca durata più di vent'anni nel tentativo di appurare l'esistenza di leggi dinastiche separate da quelle della successione al trono dei singoli stati sia per quanto riguarda le famiglie reali regnanti sia per quelle deposte gli eventuali mutamenti le applicazioni e così via è la prima volta nella storia dell'umanità che si tenta di dar vita a un repertorio genealogico che descriva le case reali da un punto di vista successoriale prendendo però in considerazione le loro leggi dinastiche e applicandole prima di questo tentativo le genealogie venivano pubblicate sulla base dei dati forniti dalle famiglie interessate o peggio ancora desunti da fonti secondarie per cui c'era il problema pratico che finché le famiglie erano regnanti più o meno si veniva a conoscenza dell'organizzazione interna di queste leggi dinastiche mentre per le famiglie deposte c'era il totale buio un caso per tutti sono gli asburgo le cui leggi dinastiche interne della famiglia sono divenute note solo successivamente almeno in gran parte alla caduta del loro regno e sono state descritte per la prima volta in assoluto anche considerando gli stati legati alla casa proprio nella precedente edizione dell'annuario 2015 2020 in un trattato di 336 pagine che è il frutto di oltre cinque anni di ricerche non era mai stato fatto niente del genere proprio per la complessità dell'argomento vi ringrazio moltissimo per essere intervenuti e ora arriverà la torta e poi andremo alla basilica di sante ustorgio per il conferimento delle medaglie dei benemerenti dell'annuario davanti all'arca dei magi così come era stato previsto grazie a tutti